ciao allora oggi vi mostro la prima ondata che mi è arrivata di decollane che ho preso da wish allora ve ne mostro alcune, quelle che mi sono arrivate e tutte state che le prendo e stanno arrivando adesso quindi ci vuole un po' di tempo, comunque sia sono tutti prodotti che sono carinissimi alcuni ve li faccio vedere subito, sono carine e oltretutto vanno bene sempre io poiché uso sempre le maglie a collo alto le trovo perfette soprattutto per il periodo invernale la qualità è abbastanza buona per il prezzo che hanno e oltretutto le ho acquistate tutte a 1 euro 1 perché quando le vedo metto una lista desideri in qualche giorno va sicuramente in promozione con gratis con la spedizione che pago ma pago la spedizione a 1 euro e quindi tutte quante a 1 euro sempre e non so se mostrarvele così ci provo oppure se girare la fotocamera ma adesso comunque le vediamo allora la prima che vi mostro è questa no direi che giro la fotocamera allora la prima che vi mostro è questa ho tenuto le luci accese perché forse i colori sono un po' sfalsati ma si vede quanto brilla questa è abbastanza grande devo dire è anche una bella catena lunga che ha il suo moschettone eccolo qui che è abbastanza resistente la catena è abbastanza resistente ed è proprio bella la collana poi io ho una passione per le farfalle quindi diciamo che è un po' grande perché guardate prende due dita eccola qua però è in simil oro rosa con tutti i brillantini è molto bella ed è anche abbastanza leggera ecco diciamo che se tornerei indietro non so se questa la ricomprerei ma per adesso è carina e un attimo perché devo andare ad aprire la porta se no me la tirano giù ok allora adesso che finalmente siamo a posto vi faccio vedere la seconda che è molto più piccolina è anche più corta vedete anche la collana è più corta quindi è un girocollo comunque sia ha sempre il suo moschettone che è abbastanza resistente la collana ha una maglia fitta quindi è più resistente ed è questa stellina con una pietra eccola qui è una stellina vi faccio vedere con la luce anche se sarebbe meglio senza luce però vedete anche voi senza luce che non si vede niente quindi poi così si vede anche quanto sbrilluccica è una stellina con una pietra viola ed è carina è molto più semplice ma è bellina poi andiamo avanti ah questa qui questa è bella perché questa è guardate un cuore è bello anche materiale perché è bello resistente con una pietra azzurra che è molto carina questo ciondolo è grande così ok quindi è piccolino è bello resistente abbastanza resistente anche il gancetto la catena mi sembra abbastanza di qualità ha il suo moschettoncino e poi è regolabile quindi l'ho chiusa così ma si può chiudere anche più avanti in base a come la vogliamo comunque questo mi piace la mia misura di catena e poi è davvero bella e vi ricordo che è sempre un euro poi altra catena che vi mostro è questa che è particolare allora questa è intanto è chiusa così quindi è impossibile perderla è un gatto sulla luna eccola qua è bella di qualità è abbastanza resistente anche la catena è abbastanza resistente è un giro collo classico perché è cortina ha il suo moschettone sempre con la maglia che si può regolare in questo caso io per superare le maglie a collo alto la tengo proprio al massimo della lunghezza e questa qui è carina e oltretutto si sono sbagliati me ne hanno mandate due uguali nella bustina e quindi perfetto perché una l'ho già regalata a mia mamma così ne abbiamo una testa e comunque è deliziosa e poi vi mostro l'ultima per adesso eccola questa che è molto leggerina è un fiore sembra smalto azzurro con tutti i brillantini dentro è molto bella fa un punto luce senza luce però senza luce si vede poco comunque questa è delicata è un giro collo classico perché la catena non è tanto grande la catena non è neanche troppo resistente devo dire questa è delicatina il moschettone abbastanza resistente ma è la catena che la vedo più leggerina rispetto alle altre non è un problema al massimo la cambio con una di queste comunque mi sembra carina e vi ricordo che è sempre a un euro allora queste erano tutte le catene collane che ho preso da Wish per il momento perché vi anticipo che ho iniziato a prenderle verso giugno luglio stanno iniziando ad arrivare e ne ho prese altre stranamente volevo farvi vedere solamente la grandezza un attimo per farvi capire di una la grandezza è questa quindi sono carine non con questa maglia sicuramente ma comunque le trovo carine sono tutte a un euro quindi direi che si possono tranquillamente acquistare e fatemi sapere se vi ho tenuto un pochino di compagnia con questo video se vi sono piaciute qual è di queste che vi piace di più ma vi anticipo già che tra poco ci sarà un altro video del genere perché stanno arrivando ed se ti è piaciuto questo video ti ho tenuto un po' di compagnia mi raccomando di mettermi un like di iscriverti al canale e anche di cliccare sulla campanella così verrai visata ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao ciao